Bentornati al nostro appuntamento con la lettura, piccoli lettori. Oggi, per terminare questa settimana dedicata alle letture natalizie, ho scelto di leggervi questa simpatica storia intitolata O che barba, Babbo Natale, di Emmanuel Kessir Lepetit. Babbo Natale è proprio seccato. La sua barba, a forza di crescere per centinaia di anni, è diventata così lunga e folta da causargli non pochi problemi. Si trascina per terra raccogliendo la polvere e impigliandosi ovunque. Per Babbo Natale ormai è impossibile anche confezionare i regali. La sua barba si annuda allo spago, si attorciglia al nastro. La situazione è esasperante. Le renne la rosicchiano e i folletti la toccano di continuo. Ormai è tutta ingarbugliata. La sera del 24 dicembre, quando Babbo Natale si prepara a partire, ci mette così tanto a pettinarla che comincia sempre il suo giro in ritardo. Quando finalmente spicca il volo sulla slitta, la barba svolazza coprendogli la faccia, così il povero Babbo Natale non vede più niente. La situazione è davvero difficile. E i guai non finiscono qui. La barba si incastra nei camini e si ingarbuglia ai rami degli abiti addobbati. E così, la mattina di Natale, i bambini meravigliati nuotano strani figli argentati che decorano i loro alberi. Saranno forse i capelli d'angelo? No, sono i peli della barba di Babbo Natale. Ma il peggio del peggio succede quando quel golosone di Babbo Natale si pappa di nascosto i deliziosi biscotti sfornati dai folletti. Non si può più andare avanti in questo modo, così un mattino di dicembre Babbo Natale decide di scrivere una lettera ai folletti. Quest'anno per Natale non voglio nuovi stivali, né un nuovo cappotto, né dei nuovi sonagli per la mia slitta, e nemmeno una renna di cioccolato. Quest'anno vorrei un rasoio elettrico, firmato Babbo Natale. PS, e prometto che farò il bravo e non mangerò più i vostri biscotti. I folletti esaudiscono il suo desiderio, finalmente. Con il suo nuovissimo rasoio, Babbo Natale si rade la barba, senza lasciare neanche un pelo. Le seccature ormai sono solo un lontano ricordo. Per questo Natale i regali vengono impacchettati a grande velocità, e Babbo Natale può mangiare tutti i biscotti che vuole senza farsi scoprire. Tutto va per il meglio fino a quando... Babbo Natale prende il raffreddore. E già, fa freddo al Polo Nord, e senza la sua barba riscaldarlo, per lui è difficile affrontare il vento invernale. Che sfortuna! La notte di Natale è arrivata, e Babbo Natale ha la febbre e trema dalla testa ai piedi. Ce la farà a consegnare i regali a tutti i bambini? Io, con questa lettura, ne approfitto per augurare a tutti un sereno Natale, nonostante il periodo difficile, e spero davvero di vedervi tutti presto in biblioteca. Buone feste e Buon Natale!